La Delfest Avelino si gode la prima vittoria in campionato, arrivata sabato sera al Pala del Mauro contro Fiorenzuola. Non una vittoria brillante, ma due punti buoni a rassendanare l'ambiente. Contro Fiorenzuola, squadra motesta ma capaci di esprimere un buon gioco, avendo affaticato in alcuni frangenti della partita. Difensivamente la Delfest non è stata impeccabile, concedendo tanti canistri facili agli avversari. Nell'escorsione è cominciata la preparazione in casa Avelino, agli ordini di coach Andrea Crosonol. Non sembrano destare preoccupazioni e le condizioni fisiche di Giovanni Carenza, per l'ala velinese non sembrano esserci problemi particolari. Ieri terapia ed esami clinici, potrebbe essere disponibile per la gara della prossima domenica contro la PL Livorno. Problemi invece per Matteo Caridà, la guardia ha un fastidio ad un gomido, ieri non si è allenato. Domenica Avelino affronterà appunto la PL Livorno. I toscani sono reduci dal capo nel big match contro Rieti. La squadra di coach Cardani è stata sconfitta con il punteggio di 80-76. È chiaro che la formazione irpina dovrà alzare il livello di intensità contro i labbronici, viste le potenzialità in squadra. Nel frattempo, il dato confortante per la società, guidata da Gennaro Canonico, riguarda la campagna abbonamenti, prolungata fino al prossimo 13 ottobre. Circa 520 tessere staccate per la stagione 2023-2024. Un dato importante, visto che il pubblico può essere l'uomo in più in campo. La riprova è già arrivata alla prima di campionato con Fiorenzola, con circa 800 spettatori presenti sulle gradinate del Pala del Mauro. La riprova è già arrivata alla prima di campionato con Fiorenzola, con Fiorenzola, con Fiorenzola, con Fiorenzola, con Fiorenzola, con Fiorenzola, con Fiorenzola.